E' che lo perdono! Ciao, mi chiamo Nicole. Ciao, mi chiamo Anthony. Oggi prepariamo un piatto di biscotti fratelli. Questa è una ricetta tradizionale italiana. Gli ingredienti necessari sono 3 quarti tazze di zucchero 3 uve Un panetto di burro ammorbidito Un cucchiaio di vanilla 3 quarti tazze di farina Due cucchiaini di levito in polvere E' una cittola e spedette le ova e il zucchero. Poi, a mettele e poi and go to spoil it all By saying something stupid like I love you I can see Pettete il burro morbido E vanilla nella ciotola Non è che poteva dire E' una musa che ci invita E mi fende, mi vede Attraverso un piano forte La morte è lontana Io vivo per lei Io vivo per lei E mi fende, mi fai Girare di città in città Soffrire un po' ma almeno Io vivo Io vivo per lei E mi fende, mi fai Io vivo per lei Io vivo per lei Io vivo per lei Attraverso un piano forte Io vivo per lei Io vivo per lei Io vivo per lei Io vivo per lei E la dina Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Mettere il pasto in frigorifero, lasciare per diversi minuti. Andiamo al Coutinare. Mettere il pasto in frigorifero. 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 Ciao